il nuovo x10 un telefono innovativo sia per l'intrattenimento che per farvi sentire sempre al centro delle vostre comunicazioni e relazioni potete spiegarci con parole vostre la funzione play now per scaricare le applicazioni dai mamma inizia te ma con parole nostre per esempio con il vostro x10 potete accedere allo store play now scaricare musica e presto anche applicazioni e giochi come il primo gioco ufficiale delle juventus ma è quello che volevo dire io oppure potete accedere direttamente l'android market dove trovare più di 50.000 applicazioni per personalizzare il vostro telefono sì però adesso dovete spiegarlo voi non franchement stelle fonte trovavo videocamera foto ci parli su facebook ci può aller sur internet non le trovi le troppo stelle fanno giustissimo tutto chiaro sì ciao 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 ciao